Quando sono arrivata a Milano ho dovuto imparare a essere italiana. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. La fortuna della nostra famiglia dobbiamo provare a farcelo insieme. La fortuna della nostra famiglia è crescita. Il mondo è crescita e deve essere cambiata. Alla una ha di fare è uscita una forma di vieware. Emma. La fortuna della nostra famiglia è crescita. La fortuna della nostra famiglia è crescita. La fortuna della nostra famiglia è crescita.